Addiction at School è un manuale che è stato pensato in collaborazione con diversi colleghi che aveva l'obiettivo di fornire degli strumenti teorici e pratici ad insegnanti, genitori e educatori chiunque si occupa di adolescenti e giovani adulti che ha come tema principale la dipendenza da gioco d'azzardo e la dipendenza da internet. Nel manuale è diviso in tre sezioni, la prima parte che dà delle basi teoriche generali sulle dipendenze, sui meccanismi delle dipendenze, poi c'è una parte più specifica rispetto al gioco d'azzardo, l'internet addiction in cui ci sono dei dati epidemiologici e da un po' di informazioni di contesto. Infine c'è una terza parte molto più pratica che dà delle strategie, degli strumenti di lavoro con gli adolescenti, i giovani adulti che trattano appunto di emozioni, di prevenzione, di disturbi nel neurosviluppo e tutta una serie di strategie appunto utili per il lavoro con i giovani.